Il comune di Avellino punta su cultura e turismo per una città sempre più sostenibile, così il sindaco festa all'inaugurazione nei giardini di Villa Mendola dell'Urbacht Greenfest. Anche il capoluogo irpino è in una rete di città pronte a sviluppare le proprie potenzialità all'insegna dell'ecosostenibilità. Ne avremo una forte riduzione delle presenze di cementificazioni, onestamente io sono per una riduzione direi quasi drastica o comunque importante di queste presenze e poi c'è la vicenda invece degli eventi, eventi culturali, turistici. Il principale attrattore già da quest'estate sarà il centro storico pedonalizzato con eventi e locali aperti fino a notte. Per far questo festa punta a una rivoluzione della mobilità con l'apertura del tunnel. L'isola pedonale parte il primo giugno, il sottopasso certamente più in là, ma poco male, dice festa, servirà e come a decongestionare il traffico. Il tunnel ci consente di fatto di pedonalizzare. Voi immaginate che il traffico veicolare che viene da Sant'Omaso, se fosse chiusa via Nappi, creerebbe il caos. Lamenti e le disagi dei residenti, secondo me incidono in minima parte e già stiamo provvedendo a limitare le difficoltà. In qualche modo siamo andati incontro a queste istanze, a queste problematiche con l'apertura del parcheggio del comune. Centro storico a parte, il primo cittadino si aspetta un agosto con il botto, anche se per ora non svela niente. Torneremo un po' ai fasti dell'ante-covid, ovviamente. Non sveliamo quello che sarà, ma sicuramente sarà una grande estate.